il treno regio express 21 41 di treno nord proveniente da domodossola e diretto a milano centrale delle ore 5 35 e in arrivo al binario 3 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma sesto calende gallerate busto arsizio roffiera milano il treno regionale 10 400 di tren italia delle ore 5 e 55 per domodossola e in partenza dal binario 1 ferma in tutte le stazioni il treno regionale 10 401 di treno nord delle ore 6 e 06 per milano porta garibaldi e in partenza dal binario 9 ferma dormelletto sesto calende vergiate somma lombardo casorate sempione gallerate busto arsizio roffiera milano il treno regionale 21 71 di treno italia delle ore 6 e 48 per novara e in partenza dal binario 1 ferma in tutte le stazioni il treno regionale 10 403 di treno nord delle ore 6 e 54 per milano porta garibaldi e in partenza dal binario 1 ferma dormelletto sesto calende vergiate somma lombardo casorate sempione gallerate busto arsizio paradiago il treno regionale 10 405 di treno nord proveniente da domodossola e diretto a milano porta garibaldi delle ore 7 01 e in arrivo al binario 3 3 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma dormelletto sesto calende vergiate somma lombardo casorate sempione gallerate busto arsizio legnano vanzago pogliano roffiera milano il treno regionale 10 402 di treno nord proveniente da milano porta garibaldi e diretto a domodossola delle ore 7 21 e in arrivo al binario 4 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno regio express 21 45 di treno nord proveniente da domodossola e diretto a milano centrale delle ore 7 e 35 e in arrivo al binario 3 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma sesto calende gallerate busto arsizio roffiera milano il treno regionale 21 70 di trenitalia delle ore 7 39 proveniente da novara e in arrivo al binario 6 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale 10 404 di treno nord delle ore 7 e 55 proveniente da milano porta garibaldi e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regio express 21 42 di treno nord proveniente da milano centrale e diretto a domodossola delle ore 8 e 23 e in arrivo al binario 4 attenzione allontanarsi dalla linea gialla attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a stresa verbani appallanza il treno regionale 10 406 di trenitalia proveniente da milano porta garibaldi e diretto a domodossola delle ore 8 e 55 e in arrivo al binario 4 attenzione allontanarsi dalla linea gialla di treno regionale 10 41 1 di trenitalia proveniente da domodossola e diretto a milano porta garibaldi delle ore 9 0 6 e in arrivo al binario 3 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale 10 408 di treno nord delle ore 9 55 proveniente da milano porta garibaldi e in partenza dal binario 5 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale 10 41 3 di treno nord delle ore 10 e 0 6 per milano porta garibaldi e in partenza dal binario 5 ferma dormelletto sesto calende bergiate somma lombardo casorate sempione busto arsizio roffiera milano il treno regionale 21 46 di treno nord proveniente da milano centrale e diretto a domodossola delle ore 10 e 23 e in arrivo al binario 4 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a stresa verbania pallanza il treno regionale 21 8 8 di treno italia delle ore 10 e 45 proveniente da novara e in arrivo al binario 6 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale 10 1 4 5 di treno italia proveniente da domodossola e diretto a milano porta garibaldi delle ore 11 0 6 e in arrivo al binario 3 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma dormelletto sesto calende bergiate somma lombardo casorate sempione gallerate busto arsizio roffiera milano il treno regionale 21 8 9 di treno italia delle ore 11 e 15 per novara e in partenza dal binario 6 ferma a borgo ticino oleggio il treno regionale 21 9 0 di treno italia delle ore 12 e 45 proveniente da novara e in arrivo al binario 6 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale 10 4 1 0 di treno italia proveniente da milano porta garibaldi e diretto a domodossola delle ore 12 e 55 e in arrivo al binario 4 attenzione allontanarsi dalla linea gialla allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno regionale 10 4 1 7 di treno italia proveniente da domodossola e diretto a milano porta garibaldi delle ore 13 e 0 6 e in arrivo al binario 3 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a dormelletto a sesto calende vergiate somma lombardo casorate sempione gallerate busto arsizio roffiera milano il treno regionale 21 9 1 di tren italia delle ore 13 e 15 per novara e in partenza dal binario 6 ferma a borgo ticino oleggio il treno regio express 21 49 di treno nord proveniente da domodossola e diretto a milano centrale delle ore 13 35 e in arrivo al binario 3 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a sesto calende gallerate busto arsizio roffiera milano il treno regionale 21 75 di tren italia delle ore 13 e 48 per novara e in partenza dal binario 9 ferma in tutte le stazioni il treno regionale 10 4 1 2 di treno nord delle ore 13 e 55 proveniente da milano porta garibaldi e in arrivo al binario 5 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale 10 4 1 9 di treno nord delle ore 14 e 0 6 per milano porta garibaldi e in partenza dal binario 5 ferma dormelletto sesto calende vergiate somma lombardo casorate sempione gallerate busto arsizio roffiera milano il treno regio express 21 48 di treno nord proveniente da milano centrale e diretto a domodossola delle ore 14 23 e in arrivo al binario 4 attenzione allontanarsi dalla linea il treno regionale 10 4 1 4 di treno italia proveniente da milano porta garibaldi e diretto a domodossola delle ore 14 55 e in arrivo al binario 4 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno regionale 10 4 2 1 di treno italia proveniente da domodossola e diretto a milano porta garibaldi delle ore 15 e 0 6 è in arrivo al binario 3 attenzione allontanarsi dalla linea gialla allontanarsi dalla linea gialla ferma dormelletto sesto calende vergiate somma lombardo casorate sempione gallerate busto arsizio roffiera milano il treno regionale 21 7 4 di tren italia delle ore 15 e 12 proveniente da novara e in arrivo al binario 6 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale 21 9 3 di treno italia delle ore 15 e 15 per novara e in partenza dal binario 6 ferma a borgo ticino o leggio il treno regio express 21 51 di treno proveniente da domodossola proveniente da domodossola e diretto a milano centrale delle ore 15 e 35 e in arrivo al binario 3 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma sesto calende gallerate busto arsizio roffiera milano il treno regionale 21 7 7 di tren italia delle ore 15 e 48 per novara e in partenza dal binario 6 ferma in tutte le stazioni il treno regionale 10 4 1 6 di treno nord delle ore 15 e 55 proveniente da milano porta garibaldi e in arrivo al binario 6 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale 10 4 2 3 di treno nord delle ore 16 0 6 per milano porta garibaldi e in partenza dal binario 5 ferma dormelletto sesto calende bergiate somma lombardo casorate sempione gallerate busto arsizio roffiera milano il treno regionale 21 7 6 di tren italia delle ore 16 12 proveniente da novara e in arrivo al binario 9 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a stresa verbania pallanza il treno regionale 21 9 4 di tren italia delle ore 16 45 proveniente da novara e in arrivo al binario 6 attenzione allontanarsi dalla linea gialla